Colpo di scena in casa schiaffino, si preparano le valigie per un viaggio a sorpresa, senza dimenticare gli accessori che fanno bella un'attrice. Sempre in viaggio, Rosanna? Beh sì, tanto per cambiare, sono sempre in viaggio. Ma questa volta una novità. Cosa? No, non è che io vado sola, è che questa volta sono io che accompagno mia madre. Vado a Genova, la mamma deve votare. Io? Io no, non voto, non ho ancora compiuto 21 anni. Ma voi sì, voi dovete votare tutti. Ci senti così importanti quando si ha diritto di votare? Beh, buon voto a tutti, eh?